Un indirizzo. Che cos'è? Una casa sicura, a Parigi. A che mi serve una casa a Parigi? Se le cose, a un certo punto, precipitassero, sapresti dove andare. Chissà. Per una tazza di tè. Fratelli. Sorelle. Il tempo scorre in fretta. Il mio sogno. Noi che viviamo per la verità. Per l'amore. A Genie. È giunto il momento di prendere il posto che ci spetta. In un mondo in cui noi maghi siamo liberi. Unitevi a me. O morite. Il mondo magico e quello non magico sono in pace da oltre un secolo. Grindelwald vuole vedere quella pace distrutta. Volete che io gli dia la caccia? Per ucciderlo? Silente, perché non va lei? Io non posso agire contro Grindelwald. Dovrai farlo tu. Ehi, tu non soffri di mal di mare, vero? A dire il vero un po'. Starai bene. Sai perché ti ammiro, Newt? Tu non hai sete di potere. Ti chiedi solo se è una cosa... È giusta. Si avvicina il momento. Dovrai decidere da che parte schierarti. No, non mi voglio schierare. Che cosa farai? Ci penserò. Newt, non c'è un mostro che tu riesca a non amare. Prendetelo. È tuo fratello? Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Ciao a tutti, oggi parliamo di Oscar, di record da Oscar. Sapete chi è che ha vinto più statuette nella storia del cinema? Il signor Walt Disney con 22 Oscar vinti, 4 Oscar alla carriera e un totale di 59 candidature. Al secondo posto c'è John Williams con 51 candidature e 5 vittorie. E i film invece che hanno ricevuto più Oscar sono Titanic con 11 Oscar su 14 candidature, Ben Hur con 11 Oscar su 12 candidature e Il signore degli anelli Il ritorno del re con 11 Oscar su 11 candidature. E finisco con il dirvi gli attori che hanno vinto più Oscar. Al primo posto al momento c'è Catherine Hepburn con 4 Oscar su 12 candidature. Segue Meryl Streep con 3 Oscar su 21 candidature, Jack Nicholson 3 Oscar su 12 candidature, Ingrid Bergman sempre 3 Oscar su 7 candidature e Daniel Day-Lewis 3 Oscar su 6 candidature. E infine Walter Brennan con 3 Oscar su 4 candidature. Li sapevate? Secondo voi sono sempre meritate le vittorie agli Oscar o vi ricordate di ingiustizie plateali, abbagli da parte dell'Academy? Fatemi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Un bacio da Valeria. Trumigliare. Min raci sapere qui destinò tommò arrivare al canale. Capito